Il professor Claudio Pettinari, attuale prorettore vicario con delega all'internazionalizzazione, sarà il candidato unitario nella corsa alla guida dell'Università di Camerino per i prossimi sei anni. La candidatura è stata ufficializzata nel corso dell'Assemblea della Comunità Universitaria, tenutasi a Camerino lo scorso 11 maggio. Durante l'Assemblea, preseduta dal decano professor Paolo Melotti, non sono emerse altre candidature. L'essenza del mio programma rettorale, ha dichiarato il professor Pettinari nel corso del suo intervento, si sintetizza nel titolo che ho scelto, lavoriamo insieme per Unicam. L'Università di Camerino deve continuare a svolgere con forza quel ruolo propulsivo al servizio dello sviluppo culturale ed economico delle comunità che ad essa si rivolgono. Per questo ho scelto alcuni punti cardine su cui concentrare tutte le nostre energie e le nostre attività per riuscire ad affrontare al meglio le sfide del futuro. La ricerca per anticiparle, il trasferimento tecnologico per realizzarle, la didattica per formare chi le affronterà, la terza missione per esserne consapevoli, l'internazionalizzazione per vincerle, organizzazione, monitoraggio e valutazione per essere rigorosi, trasparenza e pari opportunità per approcciarle correttamente. Territorio per affrontarle insieme, ricostruzione e sviluppo perché ci sia un futuro. Gli studenti, la nostra sfida più grande, il loro futuro. Il professor Pettinari ha designato come prorettore vicario il professor Graziano Leoni, docente della Scuola di Architettura e Design Vittoria ed attuale prorettore alla valutazione, programmazione e qualità. La prima votazione si iterrà mercoledì 14 giugno a Camerino presso il campus universitario dalle 10 alle 18.